Attilio Urciuolo, servizi internet e siti web. I lavori possano essere realizzati nel minor tempo possibile, dichiara il parlamentare. Nei mesi scorsi avevo più volte sollecitato un intervento sul viadotto non solo contattando ripetutamente la struttura tecnica di missione del Ministero, ma anche presentando un'apposita interrogazione al ministro Graziano del Rio, ricorda D'Agostino. Da troppo tempo la comunità di Parolise convive con una situazione di pericolo, determinata dalla presenza di un viadotto risalente ai primi anni 60 che sovrasta il centro abitato e versa in condizioni di inquietante fatiscenza. Negli ultimi due anni abbiamo assistito nel paese al crollo di viadotti con conseguenze anche drammatiche. Circostanza questa, conclude il parlamentare di Scelta Civica, che ci impone ad intervenire con la massima celerità anche sui viadotti irpini. Mi auguro che il Ministero delle Infrastrutture intervenga con maggiore determinazione, chiosa D'Agostino, dando impulso ai progetti di ammodernamento delle nostre arterie e di tutte le nostre infrastrutture.